Una vita tutta per amore, con gli occhi fissi al Signore. Madre Speranza, con la sua umiltà infinita, beata nell'amore di Gesù. Tu, umile donna forte Gesù. Allora, qui ci troviamo nel santuario dell'amore misericordioso. E questo è il posto più importante di tutto. Questo qui è il famoso crocifisso che Madre Speranza ha fatto fare in Spagna nel 1931. È stato per 33 anni in Spagna questo crocifisso, proprio gli anni che ha vissuto il Signore sulla terra. E poi la Madre dalla Spagna l'ha portato qui in Italia. Perché quando ha fatto questo crocifisso il Signore gli ha detto Questa è l'immagine che la farai qui in Spagna. Ma poi la porterai in Italia e la metterai nel primo santuario del mondo che tu farai a Collevalenza. Allora la Madre, con gli indirizzi dati dal Signore, quando la Madre ha finito questa visione che il Signore gli ha fatto vedere come voleva il crocifisso, gli ha detto chiama Valera che era un parente suo, perché Valera farà questo crocifisso come tu mi vedi. E la Madre, terminata questa visione, dice che il giorno dopo è andato da Valera, gli ha raccontato come ha visto il Signore e poi gli ha detto che un ebreo verrà a fare da Posa e voglia un crocifisso uguale a questo ebreo che farà da Posa. E poi gli ha spiegato come l'ha visto il crocifisso. E allora, eccolo qui che è l'originale. Quindi dalla Spagna la Madre l'ha portato qui. Questo crocifisso l'ha visto con gli occhi aperti, nel momento che dice Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi ha visto un volto sereno, tranquillo, perché la Madre ci diceva che il Signore non è morto come un condannato, ma è morto come una vittima. Si è offerto vittima in riparazione dei peccati dell'umanità, perché Lui ha riparato per tutti i nostri peccati. E' morto, dice, è nato in una stalla e è morto sulla croce per amor nostro, perché ci vuole tutti in paradiso, ha pagato Lui i nostri peccati. Allora qui si vede un volto sereno, perché il Signore ci ha offerto come una vittima. Ecco, poi nello sfondo ha visto l'ostia che sta a significare che il sacrificio della croce si perpetua attraverso il sacrificio della Santa Messa. Nell'Eucaristria, ecco il valore della Messa. Ecco, sopra si vede la tarjetta dove è scritto in greco, ebraico e latino Gesù Nazareno, re dei giudei. Poi questo progettisto nel petto si vede il cuore dove è scritto caritas, amore, e non è squarciato dalla lanciata, perché rappresenta il Signore vivo. Poi, ma la caratteristica di piedi, la madre ha detto, io ho visto il Signore in croce con due chiodi, uno peccasco in piedi, e poi il progettisto è stato sul globo, il globo che rappresenta il mondo. Sopra si vede la colonna regale, che sta ad indicare che il Signore è il re del cielo e della terra. E intorno al cuscino dove poggia la croce, c'è scritto, sei o Cristo il re della gloria. E alla sinistra, alla parte di là, c'è un libro aperto, è il pancielo, dove c'è scritto, amatevi gli uni e gli altri, come io vi ho amato, il comandamento dell'amore. Poi intorno alla fascia bianca, intorno al globo, c'è quella fascia bianca, dove scrittono Gesù, amore misericordioso, il titolo del crucifisso. La madre qui veniva sempre a pregare, a noi ci diceva sempre, quando vengono i pellegrini, la cosa più importante è che vengono a pregare qui davanti a questo crucifisso. Perché il Signore mi ha detto che tutti quelli che pregheranno con fede, davanti a questa immagine, Lui concederà tante grazie e darà tante benedizioni. E una volta la madre Nessi gli diceva al Signore, Gesù mio, fai tante grazie. Poi la madre ci ha raccontato che il Signore gli ha detto, io di grazie ne sto facendo tante i pellegrini che vengono qui, però sono pochi quelli che vengono a ringraziare. Gli ha detto, ecco perché diceva, ma io ne sto facendo tante di grazie. Ora, tra tanti fatti che io ho visto in questa chiesa, che la madre spesso andava in estasi, continuamente gli appariva il Signore, specialmente qui, lei alla notte, tante volte stava qui a mezzanotte, a luna, e qui la luce accesa c'era la madre Speranza, che faceva la via cruce, se via di seguito. Io di fatto qui ne ho visti tanti, ma mi piace raccontarvi uno dei tanti, è stato quando è morto il Vescovo de Santis. Questo qui era un santo Vescovo che io ho conosciuto tanto bene, voleva molto bene la madre Speranza, la stimava tanto. E un giorno la madre, 15 giorni prima che lui morisse circa, la madre a padrecino gli ha detto, padre, io devo andare a Todi, devo andare a parlare col Vescovo, perché stanotte il Signore mi ha detto che il Vescovo ha un tumore, e fra pochi giorni se lo porta via. Dice, però questo è il Vescovo che a te ti vuole bene, ti ha accolto in diocesi, e che ha capito molto bene il messaggio dell'amore misericordioso. Se tu glielo vai a chiedere, lui ti derà subito di sì, perché sta dando male, e se tu gli chiedi che questa cappella deve essere dichiarata santuario, lui ti derà subito di sì. Poi io penso a dargli la ricompensa nel santuario stesso. Allora la madre è andata a Todi, ha parlato col Vescovo, si sono messi d'accordo che lui sarebbe venuto alla domenica. Poi, siccome gli diceva che stava tanto male, prega per me, la madre ha detto, però eccellenza, se lei non va all'ospedale a fare le lastre, a fare una bella visita medica, starà sempre male, si deve curare. Non gli ha detto che doveva morire, se no, dice, gli preglievo un infarto, mi moriva prima del tempo. Quindi l'ho lasciato tranquillo, dice, io pregherò tanto, però lei si vada a curare, vada all'ospedale. Il Vescovo gli ha detto, mares Piazza, domenica ti darò l'approvazione al santuario, e lunedì ha andato all'ospedale. E così ha fatto. Alla domenica ha dato l'approvazione come santuario dedicato a Gesù, amore misericordioso. Mi ricordo, Dall'Ampone lì ha fatto tre prediche, una prima, una durante la messa, e una alla fine, tre, perché lui, tanto male, non poteva parlare tanto. Però quando ha visto la chiesa a pieta, giù il porto, la porta era aperta, tanta gente stava fuori, non entravano dentro. Allora lui, a vedere tutta questa gente, si è animato, finita la messa, altre parole ha detto. Era pieno da mortidio, ecco. Poi dopo, lunedì, è andato a passare la visione a me e gli ha trovato il tumore. L'hanno mandato subito a Roma. Io cerco di essere breve, perché la storia è molto lunga, cerco di appreviare. Quando è andato a Roma, Papa Roncalli era compagno di scuola. Quando ha saputo che era grave, l'ha andato a trovare. Il segretario ha detto, hanno parlato sempre di Colle Valenza, di questo santuario, che il Vescovo gli ha detto, io ho dato l'approvazione al santuario, ma non ho avuto il tempo per comunicarla a Roma. Ma il Papa ha detto, non ti preoccupare, perché qui per il Vaticano ho giusto tutto io, perché Madre Speranza è stata una grande, è stata una grande mistica. dice quindi una donna che poi è stata a San D'Ufficio, conosciuta bene, hai fatto bene a dargli l'approvazione al santuario, perché noi nella Chiesa Cattolica non abbiamo un santuario dedicato a Gesù, amore misericordioso. Questo è il primo santuario del mondo, hai fatto bene, e dopo due o tre giorni della visita del Papa, Monsignor De Santi si è morto, come la madre ce l'aveva detto 15 giorni fa. Però la madre ci ha detto, il Signore vuole che la prima messa si dica qui, perché qui gli darà la ricompensa. Allora, quando la vara da Roma doveva andare a Todi, era le sei della sera, aveva preso il permesso in diocesi, che la messa l'avrebbero detta qui al santuario, alla sera, e al mattino la messa solerne a Todi, in cattedrale. Allora, quando è arrivata alla Salma qui, la Chiesa, questa era piena di sacerdoti, almeno una settantina, tanti erano, e alla prima fila c'era il prefetto di Perugia, le autorità civili e militari. Marre Speranza stava in quell'angolo lì, con un gruppo di suori. Io mi sono messo vicino alla madre, che sapendo tutta sta storia, però pareggio a me mi ha detto, Pietro, non dire a nessuno che il verco c'è un tumore, che muore, perché la madre l'ha detto a me, che sono i sacerdoti, sono i padri spirituali, tu hai sentito tutto, ma non lo dia a nessuno, c'è quanto saremo morti, allora vorrei parlare. Ecco, perché adesso lo racconto, perché i fatti veri sono questi. Allora io mi sono messo vicino alla madre, dico, qui vediamo che succede durante la messa. Inizia la messa, dopo sette, otto, dieci minuti, la madre va in estesi, gli appare il Signore che gli dice, ti faccio vedere con quanta gloria questo vescovo entra in paradiso, perché è dato l'approvazione al primo santuario del mondo, dell'amore misericordioso, dove qui verranno pellegrini da tutto il mondo. Poi il Signore è scomparso, dopo la madre ci ha raccontato tutte queste cose, adesso ve le racconto per semplificare, dice, poi si è gritata la messa e dopo poco la madre va in estesi una seconda volta, ma la seconda volta gli ha passato il vescovo, qui c'era la vara, era la messa da morto. La madre da lì che gridava, eccellenza, quanto sei bello, prega per noi che stiamo, prega per noi che stiamo sulla terra, tu sei pieno di gloria, stai in paradiso, ti vedo che sei bellissimo, ma gridava. Il prefetto lì si è alzato, qui le autorità, i preti, tutti quanti lì, e io ho chiuso qui il barco con un po' di persone, se no la madre veniva soffocata, tutti quanti spalorditi, a sentire la madre che parlava con il vescovo. E la madre dopo ci ha raccontato, io gli ho fatto gli auguri al vescovo, ma quando ha parlato lui, mi ha detto, ma risperanza, adesso mi fai gli auguri, mi vedi pieno di gloria, perché sono in paradiso, però adesso ti vengo a dire, che io fino adesso sono stato in purgatorio, e ho sofferto tanto, tanto, la madre ci ha detto, mi l'ha ripetuto due o tre volte, che ha sofferto tanto, allora la madre gli ha risposto, qui c'ero io con gli altri, tutti abbiamo sentito, che la madre gli ha detto, ma eccellenza, lei è morto ieri a Roma, stasera stiamo a celebrare, la messa da morto, sono due giorni che lei è morto, perché mi dice che hai sofferto tanto? Il Vescovo gli ha risposto, la madre dopo ci ha raccontato, che noi sentivamo solo la voce della madre, le risposte poi la madre ci le ha raccontato, che il Vescovo gli ha risposto, madre Speranza, io ho sofferto tanto, tanto in purgatorio, io ho sofferto, tanto di più, dei due giorni che ho passato in purgatorio, sono stati molto, molto più lunghi, degli 80 anni che ho vissuto sulla terra, devi dire a tutti, che sulla terra, una sola cosa è importante, amare Dio, tutto il resto non serve a niente, io come Vescovo, ho avuto i miei difetti, e quando si muore, il corpo va al macero, ma l'anima si presenta davanti a Dio, e quando si vede Dio, è di una bellezza tale, che se l'anima non è perfetta, si vergogna, e sente il bisogno di andarsi a purificare, quando Dio poi scompare, l'anima senza la visione di Dio, incomincia il purgatorio, e per me sto purgatorio, sti due giorni che tu mi dici, che sono morti, sono stati molto più lunghi, degli 80 anni che ho vissuto sulla terra, perché? Che una volta che si vede Dio, è di una bellezza tale, che l'anima sente il bisogno di andarsi a purificare in purgatorio, e ci va volentieri, perché capisce che sulla terra, il periodo che mi ha dato sulla terra, non ho amato Dio come dovevo fare, capito? Quindi dillo a tutti i pellegrini che vengono da te, a tutti devi dire, che il periodo che stiamo sulla terra, è una prova che il Signore ci dona, ma sta prova la dobbiamo passare bene, dobbiamo amare Dio, invece, stando sulla terra, viene dimenticato Dio, allora a tutti devi ripetere, che la cosa più importante è amare Dio, il resto non serve a niente. Poi alla sera, dopo cena, siamo stati due ore con Madre Speranza, che ci ha raccontato bene questo fatto. Adesso io ve l'ho detto in poche parole, perché il tempo ne abbiamo poco, ma questi sono fatti che io ho visto qui in chiesa, toccati con le mani, visti con gli occhi, sono cose da spalordite, che la Madre è stata un gigante di santità, gli apparìvi il Signore tre, quattro volte al giorno, un altro fatto poi giudo, quando stavo giù in fondo, una sera è passata Madre Speranza, mi è caduta in cinocchio davanti a me, in cinocchio mi è caduta la Madre, e io subito, io lì per lì, ero convinto che si fosse sentita male, invece ho visto che stava con le mani giunte, e dico, gli appassa il Signore, infatti gli era appassa il Signore, e la Madre Speranza stava a dire al Signore, figlio mio, perché lo chiamava figlio mio al Signore, gli diceva, figlio mio, io vengo dalla dispensa, che le sue ore mi hanno portato a vedere, cioè il serbatoio dell'olio, diecettoliti, comprato da poco tempo, ci ha finito, adesso mi ha fatto vedere anche le bottiglie, finita, mi ha detto che stasera staranno tutti senza condimento, ma in Spagna, quando io avevo tanti bambini, tu mi moltiplicavi sempre i viveri, avevo la dispensa sempre piena, qui devi fare la stessa cosa, figlio mio, adesso queste vogliono che le vada a comprare l'olio, ma io non sono una lira in tasca, ho debiti da pagare, ma tu che puoi far tutto, dagli una bella benedizione, fammi trovare il serbatoio pieno figlio mio, queste erano le parole che la Madre diceva, io stavo lì con le sue ore a sentire, poi finita l'estasi, che è durata un'ora, le sue ore sono corse tutte in cucina, per preparare la cena, io sono rimasto con Madre Speranza, perché i sacerdoti che dicevano, Madre, è stata sempre a chiedere l'olio al Signore, che risposta ti ha dato? E la madre ci diceva, la risposta del Signore non me l'ha data, però lui sa tutto, vede tutto e mi aiuta, lui sa che giù non c'è l'olio, e stasera mangerete scontito, quindi lui lo sa, dice non c'è bisogno, e la risposta non me l'ha data, però figlio mio dobbiamo avere tanta fede nel Signore, che il Signore è un papà, ci vuole bene, ci aiuta sempre, dobbiamo pregare, e dobbiamo avere fede nel Signore, mentre stavamo a parlare così, erano passati 7-8 minuti, che le sue ore erano uscite, sentiamo strillare, perché dalla cucina che è di là, si sente qua, allora a me, avevo 22 anni, 23 anni, mi dice Pietro, vanno di sotto a vedere, perché le sue ore strillano tanto, che è successo? qualcuno sta male, allora io penso, sono andato di cosa, che mi dispiaceva, a me mi piaceva stare con la madre, a sentire quello che dicevano, però mi ha detto, di andare a vedere, e sono andato a vedere, vado di costa in cucina, trovo la sua risposta, e dico madre, ma che fate, che strillate tanto, che qui, mi ha mandato madre Speranza, e padricina, a sapere che è successo, c'è Pietro, tu stavi vicino alla madre, e non hai capito niente, io ho risposto, ma che devo capire, la madre in estasi, stava a chiedere l'olio al signore, questo ho capito, allora il supero dice, noi, prima di venire in chiesa, l'abbiamo portato a vedere, il sempatoio di 10 toni, che era vuoto, con le bottiglie, dietro tutto vuoto, e la madre ci dice sempre, di pregare, ma una settimana, che glielo stiamo a chiedere, lei ci dice sempre, di pregare, però stasera siamo rimasti, senza niente, pregare, abbiamo pregato, però l'olio non c'è, dice adesso, tu hai sentito, che la madre stava a chiedere, l'olio così, stavo lì a sentire, dice, noi siamo venuti qui, ci siamo sbalorditi, perché se va d'olio, usciva un po' d'olio, lo vanno a aprire, era pieno d'olio, poi dietro le bottiglie, erano tutte piene d'olio, ecco che svegliamo, che abbiamo visto il miracolo, che gliel'abbiamo fatto vedere, io la chiave ce l'avevo in tasca, poi siamo venuti qui, dopo l'estasi, si è moltiplicata tutte, cioè questa è madre speranza, questa parla col Signore, lo vede, e vengono fuori questi miracoli, il Signore l'ascolta, e gli opera questi miracoli, io ero così incredulo, perché questo è stato uno dei primi fatti, che ho toccato con mano, ero così incredulo, facevo scuola di matematica, mi è venuto in mente, non vorrei che questi sori spagnoli ci imbrogliano, che l'abbiano riempito d'acqua, e poi l'olio che è rimasto sotto va a galla, ci ho voluto mettere questa mano destra un po', ci ho messo un po' la mano, l'ho tirata fuori, era tutto olio, sono venute di corsa qui, e gli ho detto, madre, giù le sori strillano, perché sono tutte contente, perché a lei gli ho fatto vedere il serbatoio vuoto, ma adesso è tutto pieno, compresa anche le bottiglie, allora la madre, guardando il crocifisso, gli ha detto qui, quando stava giù in fondo alla macchina, figlio mio, grazie, grazie, ha ringraziato il Signore, poi sono venuti, madre Speranza, i preti, le sori, i ragazzi, tutti giù, hanno visto il serbatoio pieno di olio, questo è stato uno dei primi fatti, che ce l'ho nel cuore, l'ho toccato, ecco perché dico sempre, io racconto questi fatti, con un motivo solo, perché tutti abbiano a credere che il Signore c'è, qui ci ha creato liberi rispetto alla libertà, ma poi tutti ci dobbiamo presentare davanti a Lui, e questa storia del Vescovo, è uno dei fatti che a me mi ha colpito tanto, non ci ho dormito tutta la notte, questo era un santo sacerdote, e due giorni di purgatorio, per Lui dice ho sofferto più degli 80 anni che ho vissuto sulla terra, me lo ricordo per sempre, io cerco di trasmetterlo a tutti con amore, perché se il Signore mi ha fatto questa grazia, di vivere vicino a questa grande mistica, è bene che io dia un po' la mia testimonianza, che è tutto vero, la madre è stata un cilante di santità, e voi che siete venuti qui nel santuario, siete stati bravissimi, avete fatto bene, venite e portateci anche altre persone, perché questa è un'opera voluta dal Signore. Qui abbiamo, in queste mattonelle, sono degli acsevoli, gli altri santuari usano i pori d'argento, qui l'architetto ha pensato di fare tutte le mattonelle, e nelle mattonelle hanno inciso nome, cognome e data, in archivio abbiamo tutte le documentazioni mediche, quindi sono più di mille di queste mattonelle già scritte, in archivio abbiamo tutte le documentazioni mediche, ma fatti grossi, capite, di cancro, paranze, luceniere, ricordo alle piscine, uno dei primi miracoli, una signora cieca, mentre si lavava alle piscine, alle fontane, mentre si lavava la faccia, era uscita dall'ospedale al mattino, si era operato un mese prima, non gli tornava più la vista, cieca, allora la signora gli ha detto al figlio, non mi portare a casa, portimi a Callevolenza, il figlio che non ci credeva, non voleva, poi alla fine il figlio ha dovuto cedere, che la mamma insisteva, quando è venuto qui, le piscine erano chiuse, sono andate a lavarsi, con l'acqua e delle fontane, e delle piscine alla stessa, quella che ci vuole è la fede, questa signora prima si è andata a confessare, poi è stata la messa alle 10, dopo la messa alle 10, il figlio l'ha portata alle fontane, mentre si lavava con l'acqua, il figlio racconta dopo pochi minuti, la mamma che si mette a gridare, figlio mio ti vedo bene, mi è tornata alla vista, ma il figlio non ci vedeva, dice mamma, capito, tanto che cieca, capito, dice le stupidacce, non ci vedeva, e gli ha fatto leggere, lì la scritta alle piscine, che la mamma ha letto bene, dice lì vedo scritto, ad opera quest'acqua con fede e amore, sicuro che ti servirà, di rifrigere al corpo, di salute all'anima, e la mamma ha letto bene, poi abbiamo chiamato un sacerdote, mi hanno chiamato a me, che stava a fare scuola, sono andato allì a piscine, e sto sacerdote ha preso il libro, gli ha fatto leggere, leggeva benissimo, gli ha detto, tornate a Perugia, dove vi siete operati, e portate i documenti, alla sera, verso le otto, sono arrivati i medici da Perugia, sbalorditi, che sta signora, gli avevano fatto le lastre al mattino, prima di tornare, aveva le reti e ne staccate, quando è tornato a Perugia, aveva le reti e ne riattaccate, e la visita ocolistica, 10 gradi su 10, sono venuti i medici loro stessi, c'è un miracolo autentico, sicuro, poi io gli ho fatto vedere le piscine, questo è stato uno dei primi miracoli, ma qui ogni mattonella, ha una storia del genere, qui c'è la mano del signore, e la magia ci diceva sempre, qui verranno per le cliniche, una vita tutta per amore, con gli occhi fissi al signore, madre speranza, con la sua umiltà infinita, beata nell'amore di Gesù, tu, umile donna, forte in Gesù.